Cristian, l'hai portato a casa il pallone della finale? Lo dovrei portare a casa, ma non l'ho preso per come l'hanno dato. No, a parte gli scherzi, è stata una giornata bella, bisognava portare a casa la Coppa più che altro, ci siamo riusciti. Ora abbiamo la testa subito a domenica, guardiamo di finire bene questa settimana che è stata ed è impegnativa e vogliamo finirla nei migliori dei modi con un risultato a pesce. Sei un po' il matatore delle finali, in ogni finale è sempre segnato, questa volta con una tripletta. Quanto è la tua soddisfazione personale? La soddisfazione personale per i gol c'è, chiaramente è tanta, ma più che altro guarda, io sono assolutamente contento della prestazione, ma avevo più voglia di vincerla con tutta la squadra perché siamo veramente un gruppo fantastico, affiatato, con una società fantastica, in cui ci meritiamo queste vittorie e quindi ora dobbiamo portare, a parte che bisogna andare ancora più avanti in Coppa e non mollare in campionato perché non è ancora finito. Ecco, il mio pensiero prima della finale era la paura di sottovalutare l'incontro, soprattutto aveva speso tante energie domenica che si potevano ripercuotere su questa partita, invece siete stati veramente, diciamo, professionisti. Sì, l'energia l'abbiamo spesa perché anche domenica si può dire che era comunque, diciamo, non era una finale ma quasi, però quando si giocano queste partite qui, insomma, io penso che la stanchezza venga in secondo piano, si pensa solo alla finale e a portare a casa il risultato, quindi ci siamo riusciti e va bene così.